Good morning bad taste! Tempo, amore e soldi. Questi sono i tre macro titoli dei tre capitoli in cui si può dividere il breve ma ricco e intenso nuovo libro di Labadessa che si intitola piccolo con il punto esclamativo. Vi ho recensito con poco entusiasmo il libro precedente di Labadessa, ovvero Bernardo Cavallino, che ho trovato pieno di potenziale ma molto sconclusionato soprattutto nel finale, tanto da rendermelo abbastanza fastidioso proprio perché mi ha deluso molto, non mi infastidiscono i fumetti che non mi piacciono e basta, mi infastidiscono quelli che invece potrebbero essere una gran cosa e invece sono molto di meno. Ecco, non mi aspettavo quindi granché da Labadessa in questo nuovo libro, non perché io non mi esperti niente da Labadessa, ma perché insomma mi viene naturale quando pensa un autore partire nelle aspettative dal loro ultimo lavoro, quando conosco i precedenti, e invece è piccolo e bellissimo. L'ho trovato molto bello, ci ho messo un po' a decidere che è molto bello, perché per un po' ho avuto l'impressione che tentasse di far ridere e che riuscisse a, come dire, a momenti molto alterni, e invece non è vero, questo libro è un libro tanto, 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 tanto intimista, non che non sia divertente, attenzione, ma lo è all'interno di un contesto diverso da quello che pensavo. Labadessa è un po' così, è un alinconico sostanzialmente, è un comico di fatto di melanconia anche, ok, che a volte crasso, anche volgare, utilizza la volgarità, a qualcuno può dare fastidio, a me certamente no, però Labadessa insomma basta leggere i suoi meravigliosi, spettacolari oroscopi per capire che ci sia sempre anche una vera fortemente malinconica e molto riflessiva all'interno delle sue storie, e qui c'è come, qual è il concetto di base sostanzialmente? L'uomo uccello, che è un po' l'avatar e il personaggio fondamentale dei frumetti di Labadessa, parla con il suo bambino interiore, che appunto chiama piccolo, e gli parla perché? Perché sente evidentemente di essere arrivato all'età adulta, non sembra particolarmente felice di essere arrivato all'età adulta, né di come, lo ha fatto, e quindi parlando con il proprio bambino interiore immagina di poter migliorare le cose per lui, per il piccolo, ma anche per se stesso. Si instaura un dialogo tra un adulto che non sa parlare ai bambini e un bambino rompipalle, come pochi, che fa lo stupido e disturba e ogni tanto dice, fa delle domande troppo intelligenti per che abbiano una risposta, cosa tra le più fastidiose che possono fare i bambini. E i tre argomenti appunto che l'uomo uccello vorrebbe spiegare al se stesso bambino sono questi, sono il tempo, nella misura in cui ormai quando arrivi a riconoscerti volente o non volente come adulto non puoi più far finta che non passi. L'amore, nella misura in cui devi farci conti, a volte forse devi fare conti anche con la sua scomparsa, con la sua perdita e soprattutto con la perdita delle persone a cui vuoi bene. E i soldi, che a un certo punto si rendono necessari e che quando sei adulto devi imparare a gestire, perché i soldi diventano una parte importante della tua vita e sono tanto necessari quanto potenzialmente una forza che influenza pesantemente la tua esistenza, anziché no. Il dialogo tra i due è un dialogo disfunzionale, è il dialogo tra un adulto che non si sente pronto per esserlo, è un bambino che ha i mezzi di comprensione di un bambino ma che in parte è già quell'adulto che diventerà. L'uomo uccello si aiuta con tre favole e un poeta, per parlare appunto di questi temi. Tre favole e un poeta molto toccanti, molto... tra il sospeso e il grottesco, tra il poetico e il cazzone, con un equilibrio tra questi due componenti molto interessante e con tutta la disperazione di un uomo che cerca di parlare a se stesso bambino, che in questa sorta di delirio personale è costretto in qualche modo a fare i conti con il presente e ad accettare il passato proprio nella misura in cui in qualche modo cerca di cambiarlo, no? Cerca di avvisare se stesso di una forma di saggezza, che chissà se è veramente saggezza, acquisita e che però ovviamente non si può far passare a colui o coloro che eravamo. Bello, bello, mi è piaciuto molto. Qui abbiamo, secondo me, il Labadessa più breve, più immediato, anche più filosofo da un certo punto di vista, non che Bernardo Cavallino non fosse tanta filosofia, ma era una filosofia meno esplicita, era una filosofia molto metanarrativa di cui l'Abbadessa aveva perso la corda, molto metafumettistica. Qui invece c'è grande schiettezza in questo libro. C'è una schiettezza non soltanto tematica, che c'era anche in Bernardo Cavallino, ma qui c'è una schiettezza formale, c'è una schiettezza di atteggiamento che aiuta moltissimo i sentimenti, le emozioni di piccolo ad arrivare immediatamente al lettore. Immergetevi nell'atmosfera, soprattutto, di questa storia, perché non è immediatamente chiara, non è immediatamente evidente e manifesto quello che l'Abbadessa vuole fare con questo libro, ma più andate avanti nella lettura, più lo capite e più vi conquisterà, ne sono abbastanza certo. Anche perché è piccolo, è una lettura piuttosto breve. Fulminio immediato, ci sono una serie di svolte, qualche colpo di scena molto convincenti e c'è una serie di personaggi proprio commoventi da un certo punto. Probabilmente bisogna avere l'età giusta, io ce l'ho un pochettino, bisogna essere passati, in qualche modo, attraverso certe riflessioni, certe domande e anche certe risposte sul modo personale di essere adulti, poi domande che non ci si smette mai di fare, perlomeno nei migliori dei casi. Le risposte che chissà quando si trovano, ma, 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 probabilmente quello che conta è la domanda. Anche l'uovo uccello credo che alla fine si convinca del fatto che quello che conta è la domanda, perché ovviamente le risposte sono sempre precarie. In un mondo in movimento ogni equilibrio è dinamico, quindi bisogna costantemente muoversi per restare in piedi. Beh, da un punto di vista artistico sicuramente la balessa si è data una bella mossa, perché Bernardo Cavalli è stato un grande successo, ma dal mio punto di vista artisticamente non così tanto. Ecco, qui, secondo me, vogliamo decisamente molto più in atto e credo che Piccolo sia davvero un ottimo lavoro, senza sbrodolamenti, senza troppi particolari inutili, senza tentativi di costruire più di quello che una storia deve essere. Ecco, Piccolo è ammirevole da questo punto di vista. La Badessa, Piccolo, Feltrinelli Comics. Versate qualche lacrima insieme all'Uomo Uccello, qualcuna dal ridere, ma diverse, diverse, devo dire, di commozione e di emotività condivisa. Un libro molto personale e molto, molto sincero. Applausi! See you! Bad taste! Bad taste! Grazie a tutti